Il 31 marzo in tutta Italia cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Le Marche si avviano alla nuova fase con numeri dell'epidemia che da 5 giorni hanno preso la piega di una nuova flessione che ha silenziato una precedente timida risalita. Parametri inferiori rispetto alla settimana precedente, ricoveri in terapia intensiva circostanziati ad una decina di casi e un fardello di decessi che dopo 26 mesi di pandemia si attesta a più di 3.700 marchigiani venuti a mancare. Al di là dell'obbligo di mascherina che continuerà a mantenersi, da venerdì 1 aprile decadono invece diverse limitazioni all'uso del Green Pass. A cominciare da bar e ristoranti. Da venerdì non ci sarà più bisogno di alcun documento per sedersi all'aperto e ordinare da mangiare o da bere. Il decreto ha previsto invece che per consumare all'interno di ristoranti e bar resti necessario il certificato verde base, quello che si ottiene con la vaccinazione, la guarigione oppure con un tampone negativo. Diciamo che il cambiamento vero e proprio secondo me sarà del primo di maggio in cui diciamo che secondo la gazzetta ufficiale Tana libera tutti quindi non c'è più bisogno di nessun Green Pass, non c'è più bisogno di mascherina all'aperto e al chiuso e quindi lì veramente sarà la svolta. Però diciamo che in questo mese di transizione già non avere più Green Pass rinforzato ma solo il tampone può bastare per andare a cena può darsi che qualcuno possa in più possa portare ai nostri ristoranti. Dal primo aprile diventa libero anche l'ingresso negli alberghi e in ogni altra struttura recettiva. Si potrà prenotare e alloggiare in camera d'hotel senza alcun Green Pass. Non si potrà invece accedere alle palestre, alle piscine, alle spa degli hotel senza il certificato rafforzato nemmeno se si è clienti dell'albergo. Cambia parzialmente anche l'accesso nei cinema e teatri dove è nuovamente consentito il consumo di cibo e bevande nonostante per accedere dal primo aprile servirà ancora il Green Pass rafforzato con obbligo di mascherina FFP2. Dal primo aprile cambiano anche le regole per entrare nei negozi dei centri commerciali. Non servirà più il Green Pass ma l'accesso sarà consentito a tutti. Svolta anche dal primo aprile per parrucchiere, barbieri e centri estetici. I titolari non dovranno più chiedere di esibire il Green Pass ai clienti. Fino al prossimo 30 aprile resta invece in vigore l'obbligo di Green Pass rafforzato per accedere a palestre, piscine e centri benessere. Allargando il tiro per l'accesso ai luoghi di lavoro per titolari e lavoratori fino al 30 aprile sarà sufficiente il Green Pass base. Fino dal 15 giugno invece per tutti gli over 50 resta la regola generale dell'obbligo di vaccinazione.